Ora che abbiamo un po' di distacco dalla vittoria di Macron alle elezioni presidenziali francesi, possiamo guardare meglio al significato di questo risultato per la Francia e per l'Europa. È stato molto evidente che lo scontro era tra l'Europa e il nazionalismo. E questa è una nuova frattura politica che si sta rappresentando in tutti i paesi. E sarà decisiva anche alle elezioni del 2023 in Italia, perché è evidente che da un lato abbiamo delle posizioni nazionaliste di chi vuole mantenere una sonnalità nazionale assoluta di stampo ottocentesco, come Fratelli d'Italia o la Lega, e dall'altro le forze che invece sono favorevoli all'integrazione europea e a una maggiore integrazione europea. L'elemento di curiosità sta nella posizione di Forza Italia, che da un lato è dentro la coalizione centrodestra, ma dall'altro ha chiaramente una posizione europea diversa rispetto a Lega e Fratelli d'Italia. Sarà dunque interessante vedere come si strutturerà l'offerta politica italiana se intorno alla tradizionale frattura destra o sinistra o se intorno alla nuova frattura tra Europa e nazionalismo, che è la frattura che stiamo assistendo nel mondo, anche rispetto agli principi di un nuovo ordine mondiale di cui parlano Putin e Xi Jinping, perché è evidente che da un lato abbiamo la prospettiva nazionalista e dall'altro abbiamo la prospettiva invece sovranazionale della condivisione della sovranità, della cooperazione internazionale, della gestione in comune dei grandi problemi globali.